la classifica attualmente noi siamo al quinto posto abbiamo nove punti almeno due punti del venezia dai non siamo proprio così lontani siamo 1 a 1 contro il reggina adesso entriamo noi e spacchiamo anche questa partita va bene non doveva succedere questo però se la mette in mezzo forse in mezzo da me però se me la passava forse io riuscivo a fare conto ancora la palla è lì comunque ce l'abbiamo ancora noi se me la passate forse io riesco a fare qualcosina ma non ora per me e vabbè l'abbiamo trovato ma questa volta è andata male prendiamo sta palla non prendiamo con la destra perché è una sconfitta non è proprio il top vai che forse ce la facciamo vai 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 stia ce la abbiamo fatto ok prendiamo la palla prendiamo la palla forse ce la possiamo fare a fare un altro gol così chiudiamo la partita dai che lo voglio fare io il gol di chiusura perché perché dobbiamo regalare la palla così perché così non andiamo da nessuna parte però se loro dicono che dobbiamo far così facciamo così dai se perdiamo mi cazzo se mi cazzo bestemmio dai che la prendo e andiamo a fare sto gol stai sul posto tu ma io ci provo da qui e ce l'abbiamo fatta l'abbiamo chiusa ci voleva tanto guarda adesso teniamo questo 3 a 1 bello stretto e basta non se ne parla più difendiamo il stato magari che possiamo ripartire in contropiede ne facciamo un altro forse mi ha rubato palla niente da fare vabbè poco mi importa perché con il 3 a 1 sto tranquillo anzi abbiamo praticamente vinto finisce qua altra vittoria ce l'abbiamo fatta allora facciamo gli allenamenti tutti i D va bene così contro il Cagliari vediamo la partita stiamo già vincendo da zero quindi siamo abbastanza tranquilli dobbiamo solo ottenere questo risultato se riusciamo a fare il gol è anche meglio bene dobbiamo staccare da quella parte vabbè troppo lunga però la prende eh vabbè eh vabbè 600 secondi alla fine 600 secondi cosa è successo ha preso traversa ce la siamo visti brutta no che adesso fanno gol se continuano così dai sentiamo sta palla non facciamo cazzate raga vai vai che sono solo al centro al centro dell'aria provo no potevo farlo ha tirato lontanissimo è infortunato qualcuno nel Cagliari vabbè è importante che non ci infortuniamo noi ripartenza ripartenza è meglio di no la facciamo noi la ripartenza e questi si muovono attenzione forse ce la posso fare forse ce la posso fare ce la posso fare gol gol 3 a 0 trema tutto c'è terremoto e si c'è che finiscono ragazzi allora mettiamo questa palla niente da fare mi rimangio tutto quello che ho detto perché non è servita niente ok prendiamo questa palla e andiamo a farne un altro magari vediamo se ci riesco vediamo se ci riesco si li salto li salto così li salto così provo la parata magari ci riesco di testa no crossala che ci sono vabbè ci abbiamo provato se questi si muovono invece no dai la puoi prendere invece dormiva vabbè 3 a 0 abbiamo vinto ok l'allenatore non è proprio contentissimo però dai se ci mette in prima squadra riusciamo a fare il macello ok abbiamo 6 punti di abilità disponibile così possiamo modificare cioè possiamo far potenziare il giocatore allora potenziamo un po' il dribbling poi potenziamo anche un po' il passaggio ovviamente e il tiro la cosa più importante poi la velocità non possiamo perché ce ne vogliono due e potenziamo i rigori ok come potete vedere là in alto sopra la mia testa c'è la valutazione di giocatore siamo saliti a 72 di totale lo potete vedere anche qui possiamo fare sì possiamo fare allenamento giochiamo l'altra partita siamo 0-0 63esimo dobbiamo segnare per forza eccolo qui il momento della sostituzione cominciamo con un calcio d'angolo io sono qui libero tutto solo ci provo è incredibile prendiamola mi sono impiccicato sul giocatore però vabbè oh è solo non dobbiamo fare questi errori mai vabbè prendila che ce l'hai ma che passaggio è ma non lo vedi che c'è quello davanti al massimo fa in cross fermatelo fermatelo bravo dai ok dai dai che possiamo andare è che possiamo andare guarda guarda mi sono solo sono solo vabbè forse non l'avevo capito che ero solo hanno spazzato hanno spazzato possiamo prenderla ma non che la devi mettere fuori bene 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 dai avanziamo devo per forza superarlo io a questo ma che passaggio è io non voglio pareggiare una partita così dai ma fermateli non sono manco tanto veloci ma siete in quattro conciodino dai ma perché fanno queste cose passaggi inguardabili fanno passaggi inguardabili vabbè rimaniamo in difesa dobbiamo fare gol ma non si può così però dai nessuno li ferma questi fanno tutto quello che vogliono come potete vedere adesso c'è ricchio che anche fanno gol meno male che l'hanno presa non mi ha fatto nemmeno passare ma dai guardami che sono solo buono qui il giro bar guardami che sono solo